Sei italiano? Si certo che sono italiano Ma chi è entrato in chat? Questione Ma come ti chiami su youtube? Non sono su youtube mi spiace Veloce quake quake Chi è il palo? Ma per caso il cognome fa greco? No C'è il palo quattro la pesca mi chiamo Come ti chiami? Gianmarcangelo Non avevo dubbi che non fosse vero Perché se ti hanno chiamato Gianmarcangelo Cioè veramente voglio conoscere i tuoi Voglio conoscere Ah lo sei nel live No no non sono nel live Ma dai dimmi come Te l'ho detto prima come mi chiamo Te l'ho detto non mi hai sentito? Giovanni te l'ho detto prima Come ti chiami su youtube veramente? Non faccio su youtube le live Sono su twitch Ah su twitch perfetto c'ho pure twitch come ti chiami? Giovanni te l'ho detto già Come ti chiami? Ancora Concentrati Se vinciamo questa partita ti dico come mi chiamo Dobbiamo vincere 5 a 3 però Se vinciamo 5 a 4 Uguale Tagli tagli che la vinciamo Come sta facendo adesso Gianmarcangelo No mi chiamo Mar... E come ti chiami? Non me l'hai detto come ti chiami Scusa però eh Si twitch no su... Dove cazzo stai pensando tu Oh oh non si dicono parolacce Eh 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 Attenzione eh Mamma mia che culo l'ho preso in testa con un culo Che non ha umanità proprio No 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 No